E' stato riprogettato dopo un percorso di ascolto con l'intero quartiere e oggi così riapre le sue porte il punto vendita Copfi di via Vittorio Veneto ad Arezzo. Ci troviamo nel quartiere di Saione. Effettivamente questo negozio è un punto di riferimento. Come sezione soci siamo felicissimi di questo rinnovamento che era necessario perché era un negozio oramai storico, insomma un po' datato e soprattutto perché la cooperativa come uso fare ha fatto proprio uno studio sulle nuove esigenze dei soci e dei clienti in generale. Nelle scorse settimane sono stati infatti ascoltati i cittadini del quartiere dalla cooperativa con l'obiettivo di raccogliere suggerimenti. Le esigenze del consumatore sono cambiate essenzialmente nei livelli di servizio e richiesti e questo è ciò che noi cerchiamo di soddisfare con questo nuovo punto vendita. Offrendo molto più servizio, molto più assortimento con un'attenzione particolare al territorio quindi gli assortimenti sono stati creati anche con l'attenzione al localismo e forte attenzione all'ambiente. Si dà sempre un valore della cooperativa quindi abbiamo completamente rinnovato gli impianti luce per il risparmio energetico, abbiamo completamente rinnovato tutte le centrali frigorifere anche questo nel senso del risparmio energetico in un momento come questo particolarmente difficile anche da quel punto di vista. Il nuovo punto vendita è quindi stato pensato per una spesa veloce, giornaliera, comoda ed accogliente con un'attenzione particolare all'ambiente. Io penso che oggi il punto vendita rispecchi quelle esigenze, ecco penso che il lavoro fatto ad oggi porterà un grande risultato. Cosa ha bisogno i clienti oggi? Come è cambiato? Oggi sicuramente il cliente ha bisogno di fare una spesa completa, una spesa veloce e soprattutto una spesa improntata anche al benessere. Quindi l'assortimento soprattutto sulla parte wellness e parte free from è stata ampliata in ogni reparto. Grazie.